eroe di hirule scelto dalla spada che esorcizza il male hai dato prova del tuo coraggio e grande abilità nel combattimento io ti benedico nel nome della dea ilia attraverso i cieli le pieghe del tempo o le ombre del crepuscolo la spada sarà per sempre legata al destino dell'eroe prego affinché la dea possa infondere nuova forza in te e nella spada che esorcizza il male roccia e roccia ci si prepara al peggio eh ma che dici non eri forse tu quello che voleva mettere in scena l'antica leggenda e danzare in onore del prescelto sapete una cosa per quanto mi riguarda la principessa ha proprio ragione sul conto di questo ragazzo che ci vuoi fare è vero davanti a lui la principessa beh si sente un po' inadeguata grazie a tutti